Di quella parte politica che viene in piazza? Non da oggi, ne ho fatte tante, da liberale, questa deve essere la festa della liberazione del nostro paese, non è una festa di parte, per troppo tempo abbiamo visto più bandiere rosse che bandiere dell'Italia, oggi drammaticamente vediamo più bandiere palestinesi che bandiere dell'Italia e quindi siamo qua accanto alla brigata ebraica che ha dato un contributo fondamentale alla liberazione dell'Italia. Ma perché la sua parte politica non scende in piazza insieme a lei? Perché non riesce a convincerli? Dicono che è la sinistra che si è appropriata di questa festa che dovrebbe essere di tutti. Esatto, bisogna essere qua, io ritengo che non dobbiamo avere una studitanza psicologica e scendere in piazza perché deve essere la festa di tutti e lo dobbiamo rivendicare e quindi spero che il mio esempio venga seguito non solo dagli alleati della Lega ma anche dagli alleati di Fratelli d'Italia, quindi noi dobbiamo rivendicare con forza che viviamo in un paese libero e democratico, grazie alla guerra di liberazione, grazie agli alleati quindi gli inglesi e gli americani che hanno sacrificato le vite dei loro soldati e grazie ai nostri partigiani. Grazie tanto.